Campioni del mondo ripetuto quattro volte, mi dici il ragionamento che c'è dietro? Martellini, dedica a Martellini Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo Rispetto per la raga che aveva fatto tutti i mondiali fino ad allora, questo è E lì forse avrei potuto pensare a qualcosa di un po' più figo Però in realtà io ero partito con questa idea Era anche un po' di scaramanziere, non sono scaramantico però diceva vabbè sei dopo Martellini E pensavo che facesse una cosa simile anche la Rai, devo dire la verità Con Civoli Ma anche perché Martellini l'aveva detto tre volte perché Carosi l'aveva detto due volte E quindi era un po' la tradizione Forse inconsciamente mi volevo anche appropriare delle eredità, ti dico la verità E quindi lui ne ha fatte tre e non ho fatte quattro Forse c'era anche un po' questo